C'era una volta un uomo di nome Limone, che aveva un corpo interamente fatto di limoni. Limone aveva la pelle gialla e liscia come un limone, e i capelli verdi come le foglie di un albero di limoni. Tutti lo chiamavano l'uomo limone, e lo rispettavano per la sua forza e il suo coraggio. Limone era molto famoso nella sua città perché aveva il dono di curare tutti i malanni con i suoi succosi limoni. Se qualcuno aveva il raffreddore, Limone gli dava un limone con del miele, e presto il raffreddore spariva. Se qualcuno aveva mal di stomaco, Limone gli preparava una tisana di limone, e il mal di stomaco scompariva. Un giorno il re della città si ammalò gravemente, e nessuno era in grado di curarlo. I medici del re avevano provato ogni rimedio, ma niente sembrava funzionare. Alla fine, qualcuno suggerì di chiamare l'uomo limone. Limone arrivò subito al palazzo del re e gli preparò una pozione di limone. Il re beve la pozione, e presto si sentì meglio. Limone restò con il re finché non fu completamente guarito, e il re gli diede una grande ricompensa per il suo coraggio e la sua intelligenza. Da quel giorno in poi, l'uomo limone divenne il medico personale del re, e fu famoso in tutto il regno per la sua abilità di guarire con i limoni. Tutti volevano essere curati da lui, e Limone divenne uno dei più rispettati e amati personaggi del regno. Grazie a tutti.